ciao è sera io sono in tenuta pigiamesca tra l'altro non faccio pubblicità alla wind però ho questa maglietta il logo della wind non so nemmeno perchè ce l'ho ma è molto comoda quindi la uso per stare in casa e niente dopo una giornata di lavoro abbastanza pesante io sto per andare a dormire e però prima di prepararmi definitivamente per la notte ci tenevo a fare questo video è un video che mi è stato richiesto e è abbastanza diciamo visto su youtube ed è un video in cui viaggiando e spengo dei fiammiferi e ho anche un accendino molto verino vedete no aspettate non si vede bene allora ecco così forse che poi dalla videocamera adesso sembra un altro colore ma è verde sono praticamente disegnate le tre fasi vabbè lasciamo stare ah comunque io non fumo però ho sempre un accendino in borsa e poi anche a casa perché mi piace molto accendere le candele e niente allora direi di iniziare e adesso spegnerò la luce e vediamo insomma che cosa si riesce a vedere con questa videocamera è un esperimento ci vediamo fra un poco ecco qua allora adesso intanto verserò dell'acqua in questa coppa e poi mi appresto ad aggiungere i fiammiferi si consumano subitissimo a me piace molto il suono del fiammifero che inizia a bruciare però sono molto corti questi quindi bisogna stare un po' a tanti adesso cerco di allontanare un po' la scatolina adesso cerco di allontanare un po' così forse non produco troppo rumore nel momento in cui accendo il fiammifero è divertente è divertente è divertente in mente ovviamente ovviamente la storia della piccola fiammiferaia che però non era molto allegra né rilassante è divertente e quindi che ci può essere i nostri è divertente saprete che in realtà non è così potrei provare a spegnerle con le dita ma non lo farò mi viene in mente il cammino acceso penso che purtroppo sentiate un rumore di sottofondo come ti sbagli? cani che abbagliano aria condizionata che poi a me non piace utilizzare l'aria condizionata però qui in casa c'è qualcuno che la tiene accesa e così si sente il rumore della macchina un altro ancora non lo farò non lo farò non lo farò e adesso trovo che siano molto particolari le ombre che produce la luce della fiamma, del fuoco danno quella sensazione di drammaticità, di diatralità però in senso positivo adesso sto pensando ad una notte d'inverno beh, se è una notte d'inverno, più o due, no è una notte d'inverno in montagna con alcuni amici, tutti radunati attorno a un caminetto a raccontarsi delle storie, sussurrando piano piano mi piace il fuoco tra i quattro elementi, qual è quello che preferite? io non vi dico il mio facciamo luce e ragazzi, io adesso vi saluto, devo darvi la buonanotte perché sono davvero tanto tanto assonnata è il caso che inizi a lavarmi, a struccarmi e a mettermi sotto le coperte e tra l'altro è estate ma io dormo ancora con il piumone non so perché la sera non ho tanto caldo e spero che questo video vi abbia rilassati e spero di aver accontentato la richiesta che mi era stata fatta insomma e se vi va, ci vediamo nel prossimo video un baso